e vorrei a questo punto vedere delle immagini relative a Catania da Mare questa manifestazione giunta all'ottava edizione organizzata dal club Etneo Barriera Battiati di Tino Cannavò durante la serata che ha visto sul palco Danilo Pasqualino il nostro Danilo e Glenda Giordano, numerose premiazioni e momenti di spettacolo vediamo anche Plazil e Boateng in questo caso tra i premiati appunto Bergessio, Alvarez Almiron, Boateng, Biraghi e Plazil gli hanno dato il benvenuto evidentemente perché ancora non l'abbiamo visto con la maglia rosso-azzurra così come Boateng peraltro poi premi e riconoscimenti a Pippo Bonanno responsabile dell'area tecnica a Giorgio Borbone, segretario generale, Pippo Franchina responsabile logistico Giuseppe Capeto responsabile della biglietteria e Arturo Magni responsabile della sicurezza abbiamo visto anche il collega nonché amico Salvo Larosa ricevere un riconoscimento tra i giornalisti hanno ricevuto l'elefante in pietra lavica Peppe Di Stefano di Sky, concetto Mannisi per il giornale La Sicilia e la nostra Federica Zuccaro per Sala Stampa per Antenna Sicilia per lo spettacolo ha ricevuto il premio come detto appunto il nostro Larosa musica, sport e spettacolo, gli ingredienti della manifestazione è terminata con l'esibizione dei mitici Bins salutiamo Tony Ranno che è tra i nostri affezionati dobbiamo fermarci grazie a tutti